Benvenuti, cari esploratori dell'ignoto, al canale Whispers of Wisdom. Oggi ci immergeremo in un viaggio affascinante attraverso il misterioso mondo delle sincronicità, un fenomeno che potrebbe cambiare per sempre il vostro modo di vedere la realtà. Preparatevi a scoprire i segreti nascosti nei messaggi dell'universo, a esplorare le profonde intuizioni di Carl Jung e a svelare il potere della legge di attrazione. Ma prima di iniziare questo viaggio straordinario, ho bisogno del vostro aiuto. Se volete sostenere il nostro canale e assicurarvi di non perdere nessun contenuto illuminante, vi invito caldamente a iscrivervi ora e ad attivare la campanellina delle notifiche. E se questo video vi colpisce, lasciate un like per far sapere all'algoritmo che contenuti come questo meritano di essere condivisi. Il vostro supporto è fondamentale per permetterci di continuare a esplorare i misteri dell'universo e della coscienza umana. Ora, immaginate di trovarvi in un momento qualunque della vostra giornata quando, all'improvviso, accade qualcosa di apparentemente casuale ma profondamente significativo. Forse pensate a una persona cara e immediatamente ricevete una sua chiamata, o magari notate ripetutamente lo stesso numero ovunque andiate. Questi non sono semplici casi fortuiti, ma potrebbero essere messaggi codificati dall'universo, pronti per essere decifrati da chi ha occhi per vedere e orecchie per ascoltare. In questo video, sveleremo i sette messaggi nascosti nelle sincronicità, esploreremo il pensiero rivoluzionario di Carl Jung e scopriremo come la legge di attrazione si intreccia con questi fenomeni misteriosi. Ci addentreremo nelle profondità della coscienza umana e del cosmo, cercando di comprendere come questi eventi apparentemente casuali possano in realtà essere segni di una connessione più profonda con l'universo stesso. Preparatevi a mettere in discussione tutto ciò che pensavate di sapere sulla realtà, ad aprire la vostra mente a nuove possibilità e a scoprire un mondo di significati nascosti che vi circonda ogni giorno. Questo non è solo un video. È l'inizio di un viaggio che potrebbe trasformare radicalmente la vostra percezione del mondo e il vostro posto in esso. Quindi, sedetevi comodi, aprite la vostra mente e il vostro cuore e lasciatevi trasportare in un regno di meraviglia e scoperta. Il vostro viaggio nelle sincronicità sta per iniziare e nulla sarà più lo stesso. 1. Cosa sono le sincronicità? Nel vasto tessuto della nostra realtà, le sincronicità emergono come fili dorati, intrecciando eventi apparentemente casuali in un disegno ricco di significato. Questi momenti straordinari sfidano la nostra comprensione convenzionale del mondo, invitandoci a esplorare una dimensione più profonda dell'esistenza. Le sincronicità si manifestano quando due o più eventi si allineano in modo così perfetto e significativo da sembrare orchestrati da una forza invisibile. Immaginate di camminare per strada, immersi nei vostri pensieri su un amico lontano, quando improvvisamente il vostro telefono vibra con una chiamata proprio da quella persona. O forse state contemplando un cambiamento di carriera e, come per magia, vi imbattete in un'opportunità lavorativa perfetta senza averla cercata. Questi non sono semplici coincidenze, ma esempi vividi di sincronicità in azione. Carl Jung, il pioniere di questo concetto, descriveva le sincronicità come coincidenze significative che sfidano le leggi della probabilità. Secondo Jung, questi eventi rivelano una connessione nascosta tra il nostro mondo interiore e quello esteriore, suggerendo l'esistenza di un ordine più profondo nell'universo. Le sincronicità si manifestano in molteplici forme. Numeri ricorrenti, incontri fortuiti, sogni premonitori che si avverano, o persino oggetti che sembrano comparire nel momento giusto per trasmetterci un messaggio. Questi eventi spesso portano con sé un senso di meraviglia, come se l'universo ci stesse sussurrando direttamente all'orecchio. Riconoscere le sincronicità nella nostra vita quotidiana richiede una mente aperta e un'attenzione acuta. Spesso passano inosservate, confuse per semplici coincidenze o ignorate nel frastuono della vita moderna. Tuttavia, quando impariamo a sintonizzarci con questi segnali sottili, un nuovo mondo di possibilità si apre davanti a noi. Le sincronicità possono fungere da bussola esistenziale, guidandoci verso nuove direzioni, confermando le nostre intuizioni o offrendoci conforto nei momenti di dubbio. Possono essere viste come il linguaggio dell'universo, un modo in cui la coscienza cosmica comunica con noi attraverso il velo della realtà ordinaria. Esplorare il regno delle sincronicità significa imbarcarsi in un viaggio di scoperta personale. Richiede di coltivare una sensibilità verso i segnali sottili dell'universo, di essere presenti nel momento e di mantenere un senso di meraviglia di fronte all'ignoto. Mentre approfondiamo questo affascinante fenomeno, ci troviamo a mettere in discussione i confini tra caso e destino, tra il mondo materiale e quello spirituale. Le sincronicità ci invitano a considerare che potrebbe esserci molto di più nella vita di quanto possiamo vedere a occhio nudo. Ci sfidano a espandere la nostra percezione della realtà e a considerare la possibilità che siamo parte di un universo interconnesso, dove ogni evento ha un significato e uno scopo più profondo. 2. Carl Jung e l'inconscio collettivo Carl Gustav Jung, figura titanica della psicologia del XX secolo, ha lasciato un'impronta indelebile sulla nostra comprensione della mente umana e dei misteri dell'universo. Il suo contributo al concetto di sincronicità è inestimabile, radicato nella sua profonda esplorazione dell'inconscio collettivo e nella sua visione olistica della psiche umana. Jung, nato in Svizzera nel 1875, iniziò la sua carriera come collaboratore di Sigmund Freud, ma presto si allontanò dalle teorie freudiane per sviluppare il suo approccio unico alla psicologia analitica. La sua intuizione sulla natura dell'inconscio lo portò a esplorare territori inesplorati della mente umana, culminando nella teoria rivoluzionaria dell'inconscio collettivo. L'inconscio collettivo, secondo Jung, è un vasto deposito di saggezza ancestrale e archetipi universali condivisi da tutta l'umanità. È un regno di simboli e modelli primordiali che trascendono le barriere culturali e temporali, influenzando profondamente il nostro comportamento e le nostre esperienze. Questo concetto fornisce una base per comprendere come le sincronicità possano manifestarsi nella nostra vita, suggerendo una connessione profonda tra la nostra psiche individuale e una coscienza universale più ampia. Jung vedeva le sincronicità come manifestazioni tangibili di questa interconnessione cosmica. Per lui, questi eventi non erano semplici coincidenze, ma piuttosto espressioni significative di un ordine acausale che unisce il mondo fisico e quello psichico. Questa visione sfidava il paradigma scientifico dominante del suo tempo, proponendo un'interpretazione della realtà che andava oltre il puro materialismo. L'interesse di Jung per le sincronicità nacque dalle sue esperienze personali e dall'osservazione dei suoi pazienti. Notò come spesso eventi esterni sembrassero riflettere e amplificare stati psichici interni, creando connessioni significative che sfidavano la logica convenzionale. Questo lo portò a collaborare con il fisico Wolfgang Pauli, esplorando le possibili connessioni tra la psicologia e la fisica quantistica. La teoria jungiana delle sincronicità suggerisce che la mente e la materia non sono entità separate, ma aspetti interconnessi di una realtà più grande. Questo principio di Unus Mundus, o mondo unitario, propone che esista un substrato unificante da cui emergono sia i fenomeni fisici che quelli psichici. In questa prospettiva, le sincronicità diventano finestre su questa realtà unificata, momenti in cui il velo tra il conscio e l'inconscio si assottiglia, permettendoci di intravedere la trama nascosta dell'universo. L'eredità di Jung nel campo delle sincronicità continua a influenzare il pensiero contemporaneo, ispirando ricerche interdisciplinari che spaziano dalla psicologia alla fisica quantistica. Il suo lavoro ci invita a considerare una visione più ampia della realtà, dove mente e materia, individuo e cosmo, sono intrecciati in una danza complessa e significativa. Esplorare le sincronicità attraverso la lente jungiana ci offre non solo una nuova comprensione di questi fenomeni misteriosi, ma anche un modo profondo di riconnetterci con il significato e lo scopo nella nostra vita. Ci sfida a rimanere aperti alle sorprese dell'universo, a coltivare una consapevolezza più profonda del nostro mondo interiore e a riconoscere la saggezza nascosta nei momenti apparentemente casuali della nostra esistenza. 3. La legge di attrazione La legge di attrazione, un concetto che ha catturato l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo, si intreccia in modo affascinante con il fenomeno delle sincronicità. Questa idea, resa popolare da opere come The Secret, suggerisce che i nostri pensieri e le nostre emozioni hanno il potere di plasmare la realtà che ci circonda. Secondo questa filosofia, l'universo risponde alle vibrazioni energetiche che emettiamo, attirando nella nostra vita esperienze e circostanze che risuonano con il nostro stato mentale ed emotivo. Al cuore della legge di attrazione c'è l'idea che il simile attrae il simile. I sostenitori di questa teoria credono che concentrandosi intensamente su desideri specifici e mantenendo una vibrazione positiva, si possa catalizzare la manifestazione di questi desideri nel mondo fisico. Questo processo di manifestazione spesso si manifesta attraverso sincronicità apparentemente miracolose, dove opportunità, persone e risorse necessarie per realizzare i nostri obiettivi sembrano comparire come per magia nella nostra vita. La correlazione tra la legge di attrazione e le sincronicità diventa evidente quando consideriamo come i nostri pensieri focalizzati possano aumentare la nostra consapevolezza di particolari pattern o opportunità nell'ambiente circostante. Per esempio, quando decidiamo di acquistare una specifica auto, improvvisamente sembra che quel modello appaia ovunque guardiamo. Questo fenomeno, noto come frequenza di Bader-Meinhof, può essere interpretato come una manifestazione della legge di attrazione in azione, dove la nostra attenzione focalizzata attira esperienze sincronistiche allineate con i nostri pensieri. I critici della legge di attrazione potrebbero argomentare che si tratta semplicemente di un'illusione cognitiva, un modo in cui il nostro cervello filtra selettivamente le informazioni per confermare le nostre aspettative. Tuttavia, i sostenitori vedono in queste sincronicità la prova di una connessione più profonda tra la coscienza individuale e l'universo più ampio, echeggiando le teorie junghiane sull'inconscio collettivo e il principio di sincronicità. La pratica della legge di attrazione incoraggia una forma di consapevolezza elevata, invitando gli individui a prestare attenzione ai segnali sottili e alle coincidenze significative nella loro vita quotidiana. Questo stato di attenzione amplificata può effettivamente aumentare la probabilità di notare e sfruttare le opportunità sincronistiche che potrebbero altrimenti passare inosservate. Inoltre, l'enfasi della legge di attrazione sul mantenere uno stato emotivo positivo e una mentalità di abbondanza può creare un ciclo di feedback positivo. Quando ci aspettiamo il meglio e rimaniamo aperti alle possibilità, tendiamo a interpretare gli eventi in modo più favorevole e ad agire in modi che aumentano le nostre possibilità di successo, potenzialmente catalizzando ulteriori sincronicità positive. L'intersezione tra la legge di attrazione e le sincronicità ci invita a considerare il ruolo attivo che possiamo giocare nel co-creare la nostra realtà. Ci sfida a esaminare criticamente i nostri schemi di pensiero, a coltivare intenzionalmente stati emotivi positivi e a rimanere aperti alle infinite possibilità che l'universo ha da offrire. Che si creda o meno nella validità scientifica della legge di attrazione, l'attenzione che pone sulla potenza dei nostri pensieri e l'importanza di rimanere sintonizzati con le sottili sincronicità della vita può essere un potente catalizzatore per la crescita personale e la realizzazione. Esplorare la connessione tra la legge di attrazione e le sincronicità ci offre una lente attraverso cui possiamo esaminare il nostro rapporto con l'universo, sfidandoci a considerare il ruolo che la nostra coscienza gioca nella creazione della realtà che sperimentiamo. Ci invita a vivere con maggiore intenzionalità, consapevolezza e apertura alle meraviglie nascoste nel tessuto della nostra esistenza quotidiana. 4. I sette messaggi nascosti Le sincronicità, come finestre sull'interconnessione cosmica, portano con sé messaggi profondi e spesso trasformativi. Questi sette messaggi nascosti nelle sincronicità rappresentano chiavi per sbloccare una comprensione più profonda della nostra esistenza e del nostro posto nell'universo. Il primo messaggio ci ricorda che siamo sulla giusta strada. Quando incontriamo ripetutamente segni o simboli che risuonano con i nostri obiettivi o desideri più profondi, l'universo sembra sussurrarci che stiamo procedendo nella direzione giusta. Questi segnali possono manifestarsi come numeri ricorrenti, frasi significative che appaiono in momenti cruciali o incontri fortuiti che confermano le nostre intuizioni. Strettamente legato a questo è il secondo messaggio, un invito a prestare attenzione. Le sincronicità spesso emergono come richiami gentili a risvegliare la nostra consapevolezza, a osservare più attentamente il mondo che ci circonda e i sottili segnali che potrebbero guidarci. Questo messaggio ci esorta a coltivare una presenza mentale più acuta nella nostra vita quotidiana. Il terzo messaggio nascosto nelle sincronicità è un promemoria della nostra connessione con un tutto più grande. Questi eventi apparentemente casuali ma profondamente significativi ci ricordano che non siamo isole isolate ma parte di un vasto tessuto cosmico interconnesso. Ci invitano a riconoscere la nostra interdipendenza con gli altri e con l'universo stesso. Il quarto messaggio è un invito al cambiamento e alla crescita. Spesso le sincronicità si manifestano in momenti di transizione o quando siamo pronti per un salto evolutivo nella nostra vita. Possono apparire come opportunità inaspettate o incontri che ci spingono fuori dalla nostra zona di comfort incoraggiandoci ad abbracciare nuove possibilità e a espandere i nostri orizzonti. Il quinto messaggio nascosto nelle sincronicità è un richiamo alla fiducia e all'abbandono. Questi eventi misteriosi ci ricordano che non tutto nella vita può essere controllato o pianificato. Ci invitano a rilassare la nostra presa sul controllo e a fidarci del flusso della vita riconoscendo che spesso le cose si svolgono in modi che superano la nostra comprensione immediata. Il sesto messaggio è un invito all'autoriflessione e all'introspezione. Le sincronicità spesso riflettono i nostri stati interiori e i processi inconsci. Ci spingono a guardare più in profondità dentro noi stessi a esplorare le nostre motivazioni nascoste i nostri desideri e le nostre paure offrendoci preziose intuizioni sulla nostra psiche. Infine, il settimo messaggio nascosto nelle sincronicità è un richiamo alla gratitudine e al riconoscimento della magia nella vita quotidiana. Questi momenti di allineamento cosmico ci ricordano di apprezzare la bellezza e il mistero che ci circondano, invitandoci a coltivare un senso di meraviglia e gratitudine per le piccole miracoli che costellano la nostra esistenza. Questi sette messaggi, intrecciati nelle trame delle sincronicità, ci offrono una guida profonda per navigare il viaggio della vita. Ci invitano a rimanere aperti, attenti e ricettivi ai sussurri dell'universo, riconoscendo che in ogni momento, in ogni apparente coincidenza, potrebbe nascondersi un messaggio di saggezza cosmica pronto a essere decifrato da chi ha occhi per vedere e cuore per sentire. Aumentare la consapevolezza delle sincronicità nella nostra vita quotidiana è un processo di sintonizzazione fine, un'arte che richiede pratica, pazienza e una mente aperta. Questo percorso di elevazione della coscienza inizia con il coltivare una presenza mentale più acuta nel momento presente. La meditazione si rivela uno strumento potente in questo senso, permettendoci di quietare il rumore mentale incessante e di aprirci a una percezione più sottile della realtà che ci circonda. La pratica regolare della meditazione ci aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza dei nostri pensieri, emozioni e sensazioni corporee. Questo stato di presenza amplificata ci rende più ricettivi ai segnali sottili dell'universo, permettendoci di notare connessioni e pattern che altrimenti potrebbero sfuggire alla nostra attenzione. Inoltre, la meditazione può aiutarci a accedere a stati di coscienza alterati, dove le barriere tra il conscio e l'inconscio diventano più permeabili, facilitando l'emergere di intuizioni e sincronicità. Un altro strumento potente per aumentare la nostra consapevolezza delle sincronicità è la pratica della gratitudine. Coltivare un atteggiamento di apprezzamento per le piccole cose della vita ci sintonizza su una frequenza vibrazionale più elevata, rendendoci più ricettivi alle manifestazioni positive nell'ambiente circostante. Tenere un diario di gratitudine, dove annotiamo regolarmente le cose per cui siamo grati, può amplificare questa pratica, aiutandoci a riconoscere le sincronicità come doni dell'universo. L'osservazione attenta del nostro ambiente è un altro aspetto cruciale per aumentare la consapevolezza delle sincronicità. Ciò implica sviluppare una sensibilità acuta ai dettagli del mondo che ci circonda, dai pattern numerici ricorrenti ai simboli significativi che appaiono in modi inaspettati. Questa pratica di osservazione mindful ci aiuta a riconoscere le sottili interconnessioni tra eventi apparentemente casuali, rivelando la trama nascosta della sincronicità nella nostra vita quotidiana. Lavorare con i sogni può essere un altro potente mezzo per sintonizzarci con le sincronicità. I nostri sogni spesso contengono simboli e messaggi dall'inconscio che possono anticipare o riflettere eventi sincronistici nella nostra vita da svegli. Tenere un diario dei sogni e dedicare tempo all'interpretazione dei loro significati può aprire nuovi canali di comunicazione con il nostro sé più profondo e con l'universo più ampio. La pratica dello yoga e di altre discipline corpo-mente può anche giocare un ruolo significativo nell'aumentare la nostra consapevolezza delle sincronicità. Queste pratiche ci aiutano a integrare mente, corpo e spirito creando uno stato di armonia interiore che ci rende più ricettivi ai messaggi sottili dell'universo. Attraverso il movimento consapevole e la respirazione controllata possiamo accedere a stati di coscienza espansi dove le sincronicità diventano più evidenti e significative. Coltivare una mentalità di apertura e curiosità è essenziale per aumentare la nostra consapevolezza delle sincronicità. Ciò significa abbandonare preconcetti rigidi su come funziona il mondo e rimanere aperti alla possibilità che l'universo possa comunicare con noi in modi inaspettati e meravigliosi. Questa apertura mentale ci permette di vedere significato e connessione anche in eventi apparentemente banali o casuali. integrando queste pratiche nella nostra vita quotidiana possiamo gradualmente affinare la nostra sensibilità alle sincronicità trasformando la nostra esperienza del mondo in un dialogo continuo e significativo con l'universo. Questo processo di elevazione della coscienza non solo ci rende più consapevoli delle sincronicità ma arricchisce profondamente la nostra vita infondendola di un senso di meraviglia significato e connessione cosmica. Mentre giungiamo al termine di questo affascinante viaggio attraverso il mondo delle sincronicità vi invito a riflettere su come questi messaggi nascosti dell'universo possano illuminare e trasformare la vostra vita quotidiana. Le sincronicità ci ricordano che siamo parte di qualcosa di più grande intrecciati in un tessuto cosmico di significato e connessione. Ogni coincidenza significativa ogni allineamento misterioso di eventi è un invito a esplorare più profondamente a risvegliare la nostra consapevolezza e a sintonizzarci con la saggezza dell'universo. Il nostro percorso attraverso le teorie di Carl Jung la legge di attrazione e i sette messaggi nascosti nelle sincronicità ci ha offerto una nuova lente attraverso cui vedere il mondo. Ora sta a voi portare questa consapevolezza nella vostra vita rimanendo aperti ai sussurri dell'universo e alle meraviglie nascoste in ogni momento. Ma questo viaggio non finisce qui. Il canale Whispers of Wisdom è dedicato a esplorare questi misteri profondi e a offrirvi strumenti per elevare la vostra coscienza. Per continuare questa esplorazione insieme vi esorto caldamente a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina delle notifiche. In questo modo non perderete mai i nuovi contenuti che potrebbero rivelarsi sincronicità significative nel vostro percorso personale. Il vostro supporto è cruciale per permetterci di continuare a produrre contenuti di qualità e di raggiungere più persone con questi messaggi trasformativi. Lasciate un like a questo video se ha risuonato con voi, condividetelo con amici e familiari che potrebbero trovarlo illuminante e non esitate a commentare con le vostre esperienze personali di sincronicità. La vostra partecipazione attiva non solo sostiene il canale ma crea una comunità vibrante di esploratori della coscienza. Ricordate ogni like ogni condivisione ogni commento è come un seme piantato nel vasto campo dell'algoritmo di YouTube che ci aiuta a far crescere questa comunità e a diffondere questi importanti messaggi a un pubblico più ampio. Il vostro coinvolgimento attivo su Whispers of Wisdom potrebbe essere la sincronicità che qualcun altro sta cercando il catalizzatore per un risveglio più ampio della coscienza collettiva. Mentre vi congedate da questo video vi invito a rimanere aperti alle sincronicità che potrebbero manifestarsi nella vostra vita. Osservate con occhi nuovi ascoltate con orecchie attente e siate pronti a decifrare i messaggi nascosti che l'universo ha in serbo per voi. E ricordate qui su Whispers of Wisdom continueremo a esplorare insieme i misteri dell'esistenza illuminando il sentiero verso una comprensione più profonda di noi stessi e del cosmo. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio. Che le sincronicità vi guidino verso nuove scoperte e che la saggezza dell'universo continui a sussurrare al vostro cuore. Ci vediamo nel prossimo video Esploratori della Coscienza